ragazzi ok, risolve questo problema perché veramente noi stiamo... via via ma spegni pure, pure rock, non è un problema super rock e rock, non ci formalizziamo ma spagliamo, non cassa giudizia io intanto vi dovreste ringraziare perché credo di aver eliminato una zanzara ingogliandola per cui non pungerà a voi perché me la sono mangiata, buona buona un po' sciata, ma insomma apnea come ci sognavi a questa età con la casa al mare di nostra proprietà no che non è uguale questa realtà stare in mezzo al mare è tutto che non va non va questo avvenire qua ci hanno detto molto, ho dato la metà quanti assegni di sogni, chi li pagherà quali scuse a casa e cose ci rimango lì c'è il tornato e ti risale a piano c'è a me ti prendi questo avvenire qua stringimi stringimi mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi la fondata mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi poi fatti mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi mi prendi Vieni in giro, respiriamo in profondità, vieni là, portato, riusciremo a cavarciare in apnea, in apnea, noi due, in apnea, noi due. Vieni in giro, respiriamo in profondità, vieni là, portato, riusciremo a cavarciare in apnea, in apnea, noi due, in apnea, noi due. Vieni in giro, respiriamo in apnea, noi due, in apnea, noi due.